Per chi lavora nelle aziende, prestate attenzione a questa slide, nel senso che se vi siete sentiti dire che non ci sono i soldi per organizzare un evento, non ci sono soldi per spostare persone, il webinar è la risposta. Se lavorate nelle aziende, se fate consulenza o se avete a che fare con le aziende, questo è uno dei motivi più importanti per usare il webinar, fare formazione di altissimo livello, con un'altissima densità di concentrazione, mettiamolo in questi termini, senza trasferte e senza spostamenti. Guardate che vuol dire tagliare i prezzi di percentuali altissime. Per darvi un'idea, noi seguendo alcuni clienti che dovevano passare dalla formazione in loco, organizzata in presenza, al webinar, si parlava di budget che passavano dai 100.000 ai 5.000 euro. Capite che non è una cosa da poco, una convention è chiaro che ha altri scopi, però fondamentalmente questo ha un forte impatto, ma non solo. Dato che molte aziende ci tengono all'immagine ecologica e all'immagine di sostenibilità, questo è lo strumento perfetto. Ci sarà sempre quello che dice sì, ma i server web consumano, producono, bla 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 bla, ok, ma meglio mettere in giro 100 viaggi individuali o piuttosto un server che produca per un'ora, due ore, dieci ore quello che produce?